Il mandato elettorale di sindaco Giunta e Consiglio Comunale di Favara è ormai in scadenza e si può iniziare a tirare le somme. Nulla di nuovo sotto il sole. L'amministrazione del sindaco Manganella si conferma ancora inefficiente, improduttiva, praticamente inutile anche a gestire la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Prima arriva il servizio di raccolta porta a porta della spazzatura, con l'antiestetico sistema battezzato dei sacchetti impiccati, ossia con le buste di immondizia pensolanti dei balconi o attaccate ad un chiodo al muro, avviato addirittura grazie al contributo di un esterno all'aggiunta. I cani randaggi possono distribuire la spazzatura per terra, piuttosto che portarli in un canile o sterilizzarli, meglio lasciare ciondolare i sacchetti. Fu questa la motivazione di allora. La spazzatura viene quindi raccolta sotto casa, o per meglio dire raccolta ad un amo pensolante dal balcone di casa, che poi, in qualche caso, resta pure per tutto il giorno magari ad oscillare ad altezza uomo, con serio pericolo per i passanti. Circo un anno e mezzo fa diviene praticamente obbligo per tutte le città passare alla differenziata. I cittadini favaresi erano pronti a questa proposta, ma è notizia più che risaputa e riportata da tutti i giornali, il nuovo metodo a Favara esordisce nel peggiore dei modi. Dal comune, come al solito, anche in questo caso, tutto dà l'impressione, se davvero così non è, che si sta andando alla cieca, senza una guida, senza una meta reale. Insomma, dopo tanti soldi spesi, si è approdati in una situazione che si può definire certamente peggiore della precedente. Ognuno fa quel che crede. C'è chi è tornato ad impiccare i sacchetti, chi usa il contenitore marrone inutilmente imposto dal comune, e pagato chissà da chi, mentre poteva essere utilizzato qualsiasi altro senza obblighi, c'è chi, da diversi anni, e questo è il punto centrale dell'argomento di questo servizio, si ritrova a dover gettare la spazzatura in giro per strada, o in questa o in quella contrada, perché nessuno viene a ritirargli la spazzatura sotto casa. Sì, perché con l'arrivo del servizio di raccolta porta a porta, sono stati fatti sparire i grossi contenitori di spazzatura dalle vie cittadine, e chi risiede in zona non servita, come i residenti fuori dallo stretto centro abitato, seppur costretto a pagare il servizio, con un leggero sconto perché è una zona non servita, deve arrovellarsi il cervello e spendere soldi consumando fiumi di benzina per gettare la spazzatura. Alcuni cittadini, quelli più civili, seppur ormai stanchi, la mattina presto di buon'ora devono caricare la spazzatura nella propria auto, anche se magari è pure quella nuova, metterse alla guida da casa, che ricordiamo si trova fuori centro abitato, per andare in giro per le vie del paese a cercare gli addetti al servizio di raccolta della spazzatura e scaricare finalmente nelle auto compattatrici la propria immondizia maleodorante che nel frattempo ha pure impestato l'auto. E deve uscire per forza, con il vento, con la pioggia o con il sole, se sta bene o se sta male, eppure di mattina presto, perché intorno alle 8 o 8 e mezzo gli autocompattatori sono già spariti dalla circolazione. Qualcun altro si sbarazza della spazzatura depositandola in altri comuni dell'Agrigentino. Quelli più stanchi e meno propensi a questa estenuante routine scaricano più facilmente la spazzatura in giro, per strada, nel primo posto che gli viene a tiro. Favara continua ad avere discarichi a cielo aperto. Come ricorderete, tempo fa si era formata una delle tante discariche anche in via Berlinguer, proprio nel posto dove erano inizialmente presenti i vecchi contenitori della spazzatura, che furono poi eliminati. Questa era una delle discariche più gettonate. Un'altra, ad esempio, è quella vicino al campo sportivo. Ma grazie alle telecamere installate in via Berlinguer, soprattutto nella zona interessata alla discarica abusiva, quasi di fronte all'abitazione del sindaco, e sorta, lo ricordiamo, solo per mancanza di cassonetti, quella discarica fu l'unica ad essere eliminata. Ma il problema dei cittadini non raggiunti dal servizio di raccolta porta a porta, seppur paganti, è rimasto ancora non risolto. Inoltre, per forza di cose, la spazzatura che non viene più riposta in via Berlinguer adesso va a finire in altre zone e la condizione delle altre discariche abusive è pure peggiorata. Se l'amministrazione dei consiglieri comunali non l'avessero ancora capito perché interessati a tutt'altro bene per la città, consigliamo, come da noi fatto più volte già a suo tempo, di individuare subito dei punti di raccolta per permettere ai cittadini di depositare, in orari prestabiliti, la spazzatura in luoghi precisi e non gettarla in giro per il paese. Siamo certi che sindaco, assessori e consiglieri comunali che hanno governato Favara in questi cinque anni amano la loro città, altrimenti sarebbero stati degli opportunisti, i mangiaggettoni di presenza. Ma se così non fosse, e noi non lo crediamo, che lo facessero per il bene delle prossime elezioni e delle candidature loro o di loro amici e parenti. Solo grazie ai privati la città di Favara è più turistica. Rendiamola vivibile e non criticabile. Diamo ai cittadini favaresi un servizio utile, indispensabile e soprattutto dovuto. Come si può chiedere ai cittadini di sforzarsi ad essere civili se si continua a non metterli in condizioni di poterlo fare? Ultima domanda, ma i turisti, senza nemmeno un cassonetto o un cestino in giro per la città, se comprano un panino, bevono una bibita o mangiano un gelato mentre fanno una passeggiata, dove buttano la loro spazzatura?